ecco qua un nuovo sedicente metaverso, vediamo ah no, bisogna cambiare browser perché non va bene questo Safari e allora prendiamo Chrome perché pare funzioni solo con Chrome vediamo, entriamo oh, attendiamo, attendiamo oh, metaverso, carica, 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 carica bene, carica, adesso sarà pronto carica, 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 carica carica, questo è un brand oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo no, carica ancora, no, carica adesso carica l'ambiente è un nuovo brand che è sbarcato nel metaverso carica, carica, carica carica carica, 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 carica niente, carica carica, carica, carica carica, carica, carica sta continuando a caricare carica, carica 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 e carica però, carica, carica ci siamo quasi, è solo questione di attimi e poi avrà finito di caricare ma l'esperienza sarà sicuramente straordinaria carica, carica carica, è un brand di borse quindi vorrà farmi vedere le loro borse in una modalità stra... oh, devo essere del nome MCC no, non gli basta e allora devo scrivere tutto Marco e vabbè camisani calzolari va bene a questo punto posso scegliere uno prendo questo oh, carica carica, non si vede niente torno indietro vediamo se magari si vede qualcosa ah, sì tornando indietro, sì oh, cammino cammino, cammino cerchiamo le borse metaversiche il mouse non gira quindi non riesco a ruotare e cosa posso fare? si sposta cammino 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 di lato cammino un po' avanti vediamo e poi vado di lato per vedere l'esperienza diversa delle borse oh, c'è un'azione da fare vediamo qua premiamo il play ah, si vede il video si vede il video delle borse e basta beh sarà solo qui un po' così andiamo 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 avanti oh qui c'è qualcosa di particolare vediamo un po' clicchiamo su una borsa niente qua niente qua si ingrandisce la borsa aspetta che devo sempre camminare storto ah, qua c'è qualcosa interessante oh le foto delle borse cioè tutto questo per vedere le foto delle borse perfetto 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 il metaverso e poi c'è il vecchio sistema c'è tutto clicco vai dentro vai dentro grazie a tutti grazie a tutti